Non c'è pace per la Val Tartano, già interessata la scorsa settimana dagli incendi che hanno coinvolto il versante orobico. Proprio i danni causati al terreno dal recente incendio boschivo nelle zone vicine ai tornanti 6, 8 e 10 e le intense precipitazioni dei giorni scorsi sono all'origine del distacco di alcuni massi che oggi sono caduti sulla strada provinciale numero 11 di Tartano. Per questo motivo l'amministrazione provinciale, al fine di consentire in sicurezza l'esecuzione dei lavori di disgaggio del materiale instabile e la pulizia della carreggiata, ha disposto con ordinanza la totale chiusura al traffico della strada nel tratto compreso fra il chilometro 0 in località Torraccia e il chilometro 8 più 300 in località Dosso. Il provvedimento rimane in vigore fino alle 6 di venerdì 10 novembre. Potrà comunque essere consentito il passaggio dei veicoli di soccorso, nonché di altri veicoli scortati da mezzi della protezione civile durante brevi finestre orarie. Non appena verrà ripristinata la circolazione sulla strada, la provincia darà il via alle opere di posa delle reti paramassi.